E mi cade io da Porto d'Aora al serio Già strafatto su un'aereo Ma come? Ma come? Oh ma che cazzo? Ma che cazzo dice André? Non la conosco Quasi giusto per chiarire 2009 stiamo dicendo che sono 15 anni Non c'ho il mare fuori, fra c'ho il mare dentro Non c'ho più una roba, non ci siamo mai lasciati Ci siamo sempre voluti bene Un po' più pane e più parole Invece è bello tosto, bello dritto Sono pazzeschi C'è che la furia è una forma Come vuoto del disco Oggettivamente siamo per 7 e 7 e mezzo Effetto nostalgia 9 Perché spero che non qui siamo in dei gruppi Effetto nostalgia 9 Adesso siamo pronti ad andare a vedere questo bellissimo concerto La storia è a questo punto presente del R.P. Italia 16, ci arriva il vinile Unboxing del vinile, ci arriva il 16 Il 16 arriva Il 16 Perfetto Ehi Bye bye Grazie a tutti